21 giugno 1905 nasce jean paul sartre scrittore e filosofo è autore nel 1938 della nausea un racconto filosofico il cui tema è la totale assenza di significato della vita in l'essere il nulla del 1943 il libro cardine del suo pensiero esistenzialista sartre sostiene che l'uomo anche se libero di costruire la propria vita e seguire i propri valori rimane uno sconfitto perché la libertà non porta a nulla dopo la sua adesione al comunismo sartre cerca di conciliare le sue idee esistenzialistiche con i principi del marxismo diventando un simbolo e un modello per gli intellettuali di sinistra in tutto il mondo nel 1964 gli viene attribuito il premio nobel per la letteratura che però rifiuta sartre muore nel 1980 jean paul sartre vero emblema degli intellettuali di sinistra nella seconda metà del novecento sartre era figlio di un militare cattolico e ha avuto un'infanzia difficile non ci vedeva da un occhio era un narcisista è stata una sociale vittima di bullismo nelle scuole tuttavia era un grande studioso si era formato prima a parigi poi alla scuola di heidegger e poi dopo la con dopo aver conosciuto simone de bouvoir che è stata la sua compagna per tutta la vita rielaborò i concetti esistenzialisti basati sulla vanità della ricerca della libertà li rielaborò in senso anche marxista e diventò a poco a poco il grande organizzatore dell'esistenzialismo della cultura dell'esistenzialismo i suoi meriti ovviamente vanno al di là dei della sua bravura di filosofo o della sua bravura di scrittore ricordiamo la nausea un grande capolavoro perché poi lui fu in realtà un intellettuale completo comincio a scrivere canzoni per juliette greco creò assieme a bertrand rassel il primo dei tribunali dei diritti umani sartre riaffermò un principio importantissimo che era quello dell'impegno della responsabilità dell'intellettuale nel suo tempo cioè l'intellettuale non doveva stare zitto come diciamo oggi non doveva guardare al proprio ombelico ma doveva contestualizzarsi questa fu la grande innovazione di jean paul sartre che poi diciamo venne addirittura sovrastato dal suo esistenzialismo perché lui rifiutò la legion d'onore rifiuto il nobel poi l'esistenzialismo diva un po come una grande moda tutti oggi ci ricordiamo dell'esistenzialismo francese degli anni 50 europeo degli anni 50 saint germain depres era semplicemente il luogo in cui abitava sartre diventò il cuore dell'esistenzialismo mondiale diventò una grande moda e quindi diciamo che il fenomeno diventò di costume più che culturale e comunque questo piccolo grande uomo siamo ai suoi funerali vide 50 mila persone che lo acclamavano ed erano addolorate per la sua morte noi vediamo ai giorni nostri che in una prima fase si può considerare la sola libertà individuale come fine è per questo gli americani dicono da noi c'è la libertà e non si accorgono che questa libertà individuale è ormai completamente alienata perché la libertà collettiva non esiste più poi in un secondo tempo quando si vuole tentare la libertà collettiva allora ci si trova davanti a sistemi sociali nei quali gli uomini si assumono in una fase che non è ancora il socialismo ma di passaggio verso il socialismo tutte le responsabilità cioè si caricano delle responsabilità delle inondazioni del cattivo tempo dei cattivi raccolti tutto questo gli uomini lo prendono sulle loro spalle e il risultato è purtroppo non può essere altrimenti una quasi soppressione della libertà individuale